Ti è piaciuto il messaggio che ti ho mandato prima? Lo so, lo so, lo so, lo so, già so che ti sei messo a ridere, però ti sei riempito di, come si dice, di orgoglio quando ti ho chiamato così. Va bene, va bene. Stiamo andando a mangiare qualcosa con l'anno. Ciao. E beh, ieri sera, sai, era tardo. Mi cacciò, praticamente. E ora andiamo a mangiare qualcosa, va bene. Tu facci sapere che hai fatto, sei finito di parlare al psicologo, noi comunque ti auguriamo una buonanotte, ovviamente dopo ti mando la mia di buonanotte, però questa è una buonanotte della famiglia. Ciao, buonanotte, a domani. Beh, buonanotte fratello, fammi sapere se ci sono novità. Ah, ok? Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.